E' partita anche questa esperienza? E' partita anche quest'anno, ce l'abbiamo fatta, abbiamo 35 partecipanti, siamo 13 volontari al momento, due nello staff cucina e la squadra c'è, abbiamo anche i volontari fondatori dell'associazione stamattina sotto gli occhi vigili della loro grande esperienza per la loro maturata età nel volontariato perché la nostra associazione esiste da 31 anni, questo è il 14esimo anno che facciamo il campo scuola e buon inizio a tutti quanti i ragazzi.